E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roland e oggi vi mostrerò dove trovare come sconfiggere Muldock il consacrato a Floodmore Basin. Iniziamo! Muldock si trova nello stesso posto del secondino team, ovvero quella piccola prigione presente a Floodmore Basin dove si andrà con Clayne durante la storia principale. Se la porta della prigione è aperta, il viaggio sarà veramente veloce partendo da Gnotty Peak e ci vorranno pochi secondi. In caso invece sia chiusa dovrete fare lo stesso giro fatto durante la missione principale e quindi recarvi alla segreria che vi sto mostrando e combattere i vari nemici fino ad arrivare al punto dove c'è questa sorta di rotaia con i vari container e pezzi di legno e da lì saltare su uno di essi e aspettare di essere trasportati fin sopra la prigione e poi buttarvi giù infine per atterrare dentro e iniziare a combattere Muldock. Per quanto riguarda Muldock è un consacrato normalissimo che attacca con questa sorta di raggio laser, nulla di più. Non tanca particolarmente, non ha altra specialità e soprattutto lo scudo che normalmente rifletterebbe i proiettili nel suo caso gli dà solo immunità o almeno così è stato per me. Non mi ha mai riflesso i proiettili addosso. Quindi vi lascerà che eliminarlo, fargli abbastanza danno e mi raccomando per ottenere il loot dovrete poi fargli il colpo melee per spaccare l'eridium che gli si forma attorno. Non lo dropperò all'istante. Troverete il loot in descrizione, i video usciranno dopo di questo tra qualche ora, massimo domani. Cliccate qui per vedere la build che ho utilizzato. Cliccate qui per vedere la build che ho utilizzato. Cliccate qui per vedere la build che ho utilizzato.